Ciao a tutti ragazzi sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi voglio presentare Space Alert, un gioco cooperativo spaziale ovviamente sci-fi in ambientazioni che ricorda un po' Star Trek, Mass Effect affini A cura della CGE che io ovviamente ringrazio di cuore per avercene fornito una coppia di recensione Se non erro questo gioco è uscito nel 2008 e nel 2010 dovrebbe averlo portato in Italia la Red Glow tradotto Comunque non lo sapevo, sono onesto, l'ho chiesto direttamente allo sviluppatore che me l'ha mandato una copia per la recensione Quindi ringrazio di cuore la CGE Space Alert è un gioco cooperativo affiancato da un CD che poi vi farò vedere, un CD audio Che scandisce 10 tracce MP3 per le 10 avventure che c'è nella scatola base E il gioco è bellino perché è un cooperativo giocato a carte, quindi senza dadi In cui si può giocare da 1 a 5 giocatori per una durata media di una trentina di minuti a partita Dove i primi 10 minuti sono la traccia audio che dovete seguire alla lettera e dovete fare quello che vi dice di fare la traccia audio Che sarà l'intelligenza artificiale del computer e vi dirà tutti i problemi a bordo della nave Se qualcuno va attacca e solite cose che si può vedere in un gioco in un'ambientazione spaziale tipo Star Trek Via per capecci come questa E i successivi 20-30 minuti di gioco, quelli che sono, inizia la parte non più in tempo reale con l'app da seguire Ma inizia la parte a turni dove tutti quanti i giocatori dovranno giocare le carte azione Per svolgere tutti quanti i compiti che c'è da fare all'interno di questa nave Il gioco è bellino perché praticamente racconta che siamo all'equipaggio di una nave spaziale di esplorazione Che è stata mandata per scannerizzare e per mappare un quadrante della nostra galassia E questi dati dovranno essere riportati sulla Terra Quindi i primi 10 minuti della traccia audio sarà quando voi andrete a scannerizzare Praticamente la zona, il settore della galassia dove siete stati mandati per la missione E successivamente tutta la parte del jump drive, dei due jump drive Che vi riporteranno in salvezza sul pianeta Terra È un gioco veramente veloce, è un gioco molto 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 unico nelle meccaniche E vi faccio vedere come funziona Prima unboxing Questa è la confezione del gioco che ricordo essere la versione originale in inglese Perché nel 2010 se non erro è stato portato in Italia dalla Red Globe Ovviamente noi ci siamo fatti mandare, vedete non c'è il simbolo della Red Globe Ci siamo fatti mandare la versione originale direttamente dagli sviluppatori che ancora una volta ringrazio E questa è la scatola del gioco di forma rettangolare, abbastanza tipica per un board game del genere E non è tanto grande, comunque il gioco ha diverso materiale all'interno, non tantissimo Però diciamo che bastava una scatolina del genere per contenerlo Molto benissimo tra l'altro, vedete no? Un comandante di un'astronave più tutti quanti i membri dell'equipaggio Che devono risolvere problemi sia interni che esterni alla nave Ricorda anche un po' se vogliamo ambientazioni spaziali tipo anni 80 Apriamo Regolamento di gioco Che ci spiega tra l'altro in maniera efficace, bellino e divertente In sette lezioni come diventare un esploratore spaziale Ed è bellino perché vedete ci sono caselle gialle dove vengono spiegate le regole del gioco Caselle blu che sono approfondimenti e tutto il resto è narrativo È come se ci fosse una specie di sergente istruttore all'accademia Che ci guida passo dopo passo Dal primo giorno all'ultimo, dalla prima lezione alla settima Per diventare un esploratore spaziale Ed è molto bellino e tra l'altro fatto bene Diviso veramente bene, molto colorato, molto semplice E soprattutto chiaro negli esempi che fa Il rulebook che uno direbbe Ma questo regolamento non è quell'altro No, il vero e proprio rulebook Questo sarebbe più una specie di handbook Dove c'è un riassunto del setup iniziale Di tutte le cose che devono essere fatte Praticamente questo qui è un zunto È un zunto per andarsi a ricordare le regole principali, le icone e tutto quanto CD con le colonne sonore del gioco Perché Space Alert non era ancora al tempo quando è uscito Perché questo è uscito se non erro nel 2008 Sì, 2007, figlio 2007, inizio 2008 Non c'era ancora tanto la concezione di mettere un'app virtuale Scaricabile per giochi, per board game E ci hanno messo un CD dove all'interno ci sono delle tracce audio Degli MP3 Se ovviamente avete acquistato il gioco in inglese Come me ce l'avete in inglese Se non ce l'avete in italiano tradotte direttamente dalla Red Globe in Italia Se ovviamente non avete un lettore CD Perché dovete ascoltarlo per forza ragazzi Senza di questo non si può giocare Potete tranquillamente anche se ci avete un telefonino Scaricare dal loro sito sul telefonino Tra l'altro si trovano anche su YouTube Su Board Game Geek Se non ci avete nemmeno un telefonino Va bene anche un lettore MP3 Insomma qualsiasi cosa che possa leggere e riprodurre un file audio Plance colorate per i vari colori dei personaggi che sono all'interno del gioco Ne so il verde Il rosso Il rosa E sono tutte quante che poi vanno divise Vanno staccate E queste qui delimiteranno le carte azioni che potranno essere giocate nei vari turni Nei vari step del gioco Plancia delle azioni disponibili Dal primo jump drive al secondo Come vedete con tutte le icone che si assecondano e vi dicono quale saranno le vostre azioni Che dovranno compiere il gruppo e nemici passo passo per ogni turno Inversione facile per le prime tre missioni del gioco Una di quelle che vi farò vedere ora Inversione invece gioco normale Come vedete ci sono icone in più C'è la manutenzione del computer E c'è una striscia in più Quindi sono 12 turni invece che 7 Token vari che comprendono guasti e danni alla nave Traiettorie che useranno sia i nemici che l'equipaggio a bordo per sparare E appunto i nemici per farci aprirci il fuoco contro E sotto altri token Vedete altre barre delle azioni come vi ho detto Sotto altri token che sono tipo gli intruder Malfunzionamenti Altri tipi di danno E altro ancora Tabellone di gioco Tutto qua Questo è tutto il tabellone di gioco Guardate le dimensioni Meno male Basta anche un tavolino abbastanza piccolo Tra l'altro fatto bene Molto colorato E ricorda una nave spaziale Molto molto bellino Ragazzi se sentite il fruscio del ventilatore Cerco di ritoccarlo in fase di rendering Però veramente ci sono 40 gradi qui sul soppalco O così o non si fanno i video Comunque Carte incontro Normali e difficili Esterne Quindi astronavi e cose del genere Più mostri spaziali dello spazio scuro Più Attacchi interni Equipaggio che ci hanno abbordati O anche semplicemente danni interni alla nave Sempre nella controparte Facile e difficile Cubettini per segnare punti e energie della nave Scudi Danni alla nave E quant'altro Insomma tutto quello di cui avete bisogno Sono qua dentro Carte azione Utilizzabili da tutti i membri dell'equipaggio Piccolissime miniature Che comprendono Missili Questi qui grigi sono bot Robot da combattimento E i membri dell'equipaggio Piccoli Semplici Ed essenziali Manualetto Della CGE Con Alcuni dei loro giochi Che hanno pubblicato Tra l'altro anche questo molto bellino Dateci un'occhiata Insomma Ci fosse qualcosa Che vi è sfuggito E vi interessa Siete pronti per ordinarlo E schede punteggio Dell'equipaggio Perché alla fin fine Il gioco è sempre una partita Contro il tempo E soprattutto Salvare la pellaccia E tornare sulla terra E cosa importante È segnare il punteggio A fine partita Perché quando riproverete Una partita successiva Magari riproverete A battere il vostro record Questa è la mappa Del gioco Che comprende La nave spaziale Vedete Questa qui è la nave spaziale Con due frecce ai lati Freccia blu Che serve per gli spostamenti A destra Freccia rossa Che serve per gli spostamenti A sinistra In più vedete Che la nave è divisa In tre colori Quindi zona rossa Zona bianca Zona blu E ha due ponti Ponte superiore E ponte inferiore Quindi plancia di comando E zona di comando Plancia inferiore E zona dei reattori Quindi rosso Bianco e blu Del ponte superiore Rosso, bianco e blu Del ponte inferiore Poi vedete Altra descrizione Ciascuna zona Sia blu Bianca e rossa Hanno tre ascensori Che servono ovviamente Per spostarsi tra i ponti Quando sono bloccati Poi ve lo dico dopo Si possono usare anche Le scale per scendere Comunque sprecando Un'azione di turno Che diventerà più lenta Comunque Queste sono gli ascensori Che consentano ai personaggi Di fare un movimento E di scendere al ponte inferiore Poi vedete che ogni zona Ha sempre tre azioni A, B e C Tutte A, B e C Dove A è sempre di colore rosa B è sempre di colore verde E C è sempre di colore grigio In questo caso qui Prendendo la plancia di comando Sul ponte superiore Con un'azione di A Si sparerà sempre con i cannoni Con un'azione di B Si richiederà energia al reattore Da portare su Per attivare i cannoni Perché i cannoni E gli scudi Soprattutto deflettori Se non hanno almeno Una carica Gli scudi non funzionano E il cannone Se non ha almeno una carica Non può sparare Poi L'azione B Ve lo dico Quella di ricaricare gli scudi L'azione A Di sparare E l'azione C Invece in questo caso È un'azione di manutenzione Al computer Che vi faccio vedere successivamente Quindi vedete che nel complessivo Ciascuna stanza Sia del ponte superiore Che del ponte inferiore Ha delle azioni Nel setup iniziale Bisogna Decidere Tre rotte Principali Che sono tre Più che rotte Sono tre traiettorie Tre range Che le armi da fuoco Della nave I cannoni Sia superiori Che inferiori Che i missili Potranno utilizzare Per sparare gli amici Più una sezione A bordaggio Che invece sarà Sotto la plancia di gioco Vi faccio vedere Inizialmente Girando Questi Di qua Questi range Dovete pescarne Inizialmente Quattro I primi tre Li dovete mettere Sopra In diagonale Seguendo Praticamente Le indicazioni Che ci sono Per ogni arma Quindi uno qui Uno qui E uno qui Per i ponte inferiori Non c'è problema Tanto useranno Sempre le stesse Le stesse range In più In più Dovete prenderne Un quarto E metterlo sotto Perché quello Starà a indicare Invece Gli abbordaggi Che subiremo Ne prendete tre Casualmente E fate Uno Due Tre Più il quarto Che vi ho detto Da mettere sotto E il resto Li potete tranquillamente Rimuovere Dall'area di gioco E rimetterli Dentro la scatola Tanto ne serviranno Quello sotto Lo andiamo a girare Successivamente Lo sposto un attimino Gli altri tre Li giriamo Una alla volta E giriamo Il primo Che lo mettiamo Così Giriamo Il secondo Che lo mettiamo Così Sempre attaccato Al tabellone E giriamo Il terzo Che lo mettiamo Così Un pochino Più distante Perché tenete conto Che nel mezzo Poi ci dovranno entrare Delle carte Quindi distanziateli Insomma Il più possibile Mettendoli tipo così Come vedete Su ciascuno di questi Indicatori Ci sono tre gittate Divise Semplicemente C'è la gittata corta La gittata media E in alto Come vedete Per ultima La gittata lunga Poi vi farò vedere Come funzionerà Per gli attacchi Dei cannoni Le distanze E tutto quanto In più ci sono Dei valori Ad esempio Qui c'è una X Ci sono delle lettere E qua giù in fondo C'è sempre una Z In quest'altro qui accanto Invece c'è una X Una Y E una Z Questo servirà Per tenere un tracciato Per vedere Quanto si avvicineranno I nemici alla vostra nave E ovviamente I nemici quando si avvicineranno Navi spaziali Vi apriranno il fuoco contro E quando passeranno Su delle caselle Con una lettera in particolare Andremo a leggere Sulla carta Qual è l'azione Che faranno E l'attacco Che ci porteranno La quarta Invece La mettiamo Così Dove la Z Ragazzi Ricordatevi Che è sempre il punto finale E questo servirà Per gli abbordaggi Per ora non ci interessa Quindi andiamo avanti Adesso È il momento In cui avete preparato Tutto il tavolo da gioco E dovete inserire il cd Il cd che vi dicevo Con le tracce mp3 Oppure tranquillamente Ascoltarvele da un computer O quant'altro Perché Questo gioco è bellino Come funziona Intanto quelle che vedete qui Sono le quattro planche Dei personaggi che ci sono Rosso il capitano E poi tutti gli altri sotto Mettiamo caso Che l'ufficiale di primo grado Dopo il capitano Faremo che è il blu Perché poi vi dirò Che c'è delle regole Particolari Per tutti e due Più che altro Tanto un fatto Di tenere punti Di un conteggio E all'inizio Quando mettiamo queste planche Qui dobbiamo inserire il cd Perché il gioco Praticamente dice Che siamo un equipaggio Di esplorazione stellare Nella galassia E noi dobbiamo mappare Questo settore Della galassia Dove ci ha spedito L'accademia sulla terra E per mapparlo L'azione ci richiederà 10 minuti Infatti tutte le tracce audio Che troverete nel cd Saranno sempre di 10 minuti E sono belline Perché voi lo dovete Ascoltare E dovete agire Per come la traccia audio Vi andrà a dire Ad esempio Intanto poi comunque Nel corso del video Ve le farò sentire Anche di sottofondo Per darvi un'idea Di come funzionano E ve le farò sentire Ovviamente In lingua italiana Per quanto il cd Nel gioco Ce l'ho In lingua originale In inglese La prima cosa Che dovrete fare Tutti quanti i giocatori Sarà pescare 5 carte a testa Da questo mazzo qui 5 carte casuali Quindi ne prenderete 1 2 3 4 5 E le metterete Sulla scheda Del primo personaggio Del capitano Senza girarle E così coperte Poi 1 2 3 4 5 E così via Fino a che Tutte quante le plance Avranno 5 carte Messe Sulla propria plancia Quindi sul proprio colore Della miniatura Che avete scelto A un certo punto Quando tutti quanti Sarete pronti Avete pescato Tutte e 4 I personaggi Si può giocare Fino in 5 ragazzi Però giocando in 5 Ci sono delle regole particolari Che ora non vi vado a descrivere Il quinto in più Metto una regoletta in più Che poi alla fine Non è essenziale Per giocare e divertirsi Tanto questa qui è una partita di base Mettete le 5 carte laggiù E a un certo punto Inserite il cd Sentirete una musichetta di sottofondo Tra la tobellina Che vi cala anche nell'ambientazione E il primo messaggio Che vi darà Il computer di bordo Perché poi si parla Di un'intelligenza artificiale Una specie di mother Di alien Vi dirà Attenzione Attività nemica rilevata Iniziare prima fase Vi ricordate che prima vi ho detto Che ci sono varie fasi All'interno del gioco La prima fase è questa E questa è la seconda fase Nella prima missione Ci sono soltanto due fasi Ovvero la prima E la seconda Vedete sono divise 1, 2, 3 sono la prima fase 4, 5, 6 e 7 Sono la seconda fase Andando avanti Con le missioni Dalla terza missione Dalla quarta Scusate Missioni in poi Le fasi saranno più lunghe Arriveranno fino a 12 Ma non è questo il caso Quindi ora il gioco ci dice Attivata Rilevata Presenza nemica Attivata La fase La fase 1 Ripeto Rivelata Ve le ripeto sempre due volte Quindi quando inizierà La fase numero 1 Tutti i giocatori dovranno Prendere queste carte Che hanno in mano Girarle Guardarle Ragazzi Ricordatevi con la regola Che le carte Le potete guardare E ne potete discutere Con i vostri compagni di squadra Perché è un gioco cooperativo Non è un gioco pvp Le potete guardare E discuterne Fra di voi Ma non le potete mostrare Quindi si Gli potete dire Si ho una carta per muovermi Ho una carta per questo Quest'altro Però Non gliela potete mostrare Direttamente Questa è l'unica regola del gioco A questo punto Avete Nella prima fase Nella prima azione Vedete 3 slot Però voi avete Vi ricordate 5 carte in mano Che poi Le 5 carte che avete in mano Sono queste qui Vedete Ogni carta Ha due lati Un sotto e un sopra Che fanno delle cose differenti Ad esempio questa Girata così Ti farebbe usare Ti farebbe fare un'azione Sulla plancia di comando C Della zona dove ti trovi Girandola invece Dalla parte opposta Ti farebbe usare Un ascensore Oppure quest'altra qua giù Così ti farebbe usare Una plancia di comando B Di quelle che avete visto Nelle varie zone del gioco Usandola così Ti farebbe fare un movimento blu A destra Quindi il giocatore Inizialmente Calcolando le mosse Che vorrà andare a fare Perché ragazzi Vi ricordo che Una volta che sarà finita Questa fase iniziale 10 minuti di scan Del settore della galassia Verrete attaccati Da dei nemici La missione cosa dice Farete un jump Fatto questo jump Vi ritroverete Molto probabilmente Attaccati da dei nemici Che poi succede sempre Ma non soltanto nemici Navi che vi attaccano Anche come campo di asteroidi E belino questo gioco Perché è vario Abbordaggi Oppure perché no Uno dei sistemi A bordo della nave Si rompe E voi dovrete agire Per salvarvi Perché la vostra missione È riportare Tutto quello che avete Scannerizzato Ma soprattutto Alla pellaccia Sul pianeta Terra Sull'Accademia Stellare Quindi dovete Salvarvi E arrivare A caricare i motori Per fare il secondo jump E poi il secondo jump E l'ultimo Per arrivare sulla terra Quindi voi calcolate già Le azioni che potreste fare In inizio Ad esempio Come poi vi farò vedere Sulla plancia Potreste potrei dire Allora inizialmente Per la cosa che mi interessa Di fare a me Con il capitano Che è il personaggio rosso Quindi plancia rossa Allora Questa la giro così Ok Nel primo slot Però Voi la vedete Sapete qual è Però le carte Vanno sempre giocate coperte Dico Questa qui così E quindi scendo giù Nell'azione successiva Visto che secondo me Si andrà a combattere Ma come si dice a Livorno Meglio aver paura Che toccarne Giro quest'altra E la metto Così coperta E l'ultima azione Che mi resterà Provando ad andare Da questa parte di qua Nel caso poi ci fosse Da attivare dei bot Le ultime due Che vi rimangono In mano Avete sempre il tempo Di cambiarle Queste qui sotto Fino a che il computer Non vi dirà Che è iniziata La fase di attivazione 2 Che ora vi spiego Quindi nel caso Se voi siete d'accordo Per usare quelle lì Le scartate direttamente Gli altri giocatori Sulle altre planche Faranno lo stesso Ah ragazzi Per aiutarvi Vedete anche il dorso Della carta vi aiuta Cioè quello sotto Con un mirino Un tondino In azione Quello sopra invece Con le quattro frecce È un movimento Quindi è tanto per ricordarvi Cos'era questo Avevo messo un movimento Un'azione Ve lo ricordate Perché la parte sopra Indica un movimento Quindi ho fatto un movimento Azione E movimento Tutti gli altri giocatori Faranno lo stesso A un certo punto Il cd vi dirà Rilevata attività nemica Iniziare la fase 2 Per iniziare la fase 2 Andate a ripescare Ancora una volta 5 carte Ne dovete pescare 5 in ogni fase 5 carte E questa volta Ne andate a mettere Su 4 5 6 7 Quindi andate a riempire Tutta la plancia E queste saranno Tutte le azioni Che i vostri personaggi Potranno fare Nel corso dell'avventura Che vi ricordo Palla fin fine Space Alert È un gioco Che a parte il setup iniziale Col cd Con la traccia mp3 Di 10 minuti Può durare massimo Una partita 20-25 minuti Non di più È veloce Ma anche per questo È bello Perché finita la partita Ne fai subito un'altra Non è che dura Due ore e mezzo Voi a quel punto Avrete messo Tutte le carte Qui accanto E sarete pronti Per giocare A un certo punto Il computer Di bordo Finite queste fasi Vi dirà anche Fase numero 2 Terminata Ah Regola importante Quando il computer Vi dice Fase terminata Voi dovete aver messo Tutte le carte Qui sopra Perché se voi Non avete ancora finito Di fare la fase numero 1 E il computer vi dice Ripeto Fase numero 1 Terminata Voi non potete più Metterceli qui le carte Quindi il vostro personaggio Non potrà più fare azione Regola vuole Che dovete Sempre andare dietro A quello che vi dice La traccia audio Sempre Se la traccia audio Ci sarà un certo punto Che vi dirà Ad esempio Un altro comando Bellino è Adesso potete Trasferire i dati Quindi cosa vuol dire Che un giocatore Potrà prendere Una delle sue carte E darla a qualsiasi altro Giocatore del gruppo Come gioco operativo E l'altro giocatore Gli potrà dare Una carta indietro O non dargli niente Subito dopo questa cosa Il gioco Sentirete che farà La traccia audio Delle scosse statiche Questo vuol dire Che ci sarà Un silenzio audio E tutti i giocatori Non potranno assolutamente Più comunicare Fino a che il computer Non ci dirà Che è possibile appunto Riparlare Le comunicazioni Sono tornate attivate Quindi tutto quello Che vi dirà La traccia audio Nei primi 10 minuti Voi zitti E ascoltate Una volta finiti Questi 10 minuti Inizia il gioco Vero e proprio Perché questa è la fase Di setup E la traccia audio Non c'è più Quindi a quel punto Potrete parlare E fare quello che vi pare Ma inizialmente Seguite sempre La traccia audio Ah Dimenticavo Sia nelle partite avanzate Che nelle partite normali Vedete Le carte azioni Ci hanno sempre Il dorso grigio Queste ci hanno Il dorso giallo Nella prima fase Nel primo round Quindi in quello Dove c'è da mettere 3 carte Dovete Una delle quali Deve sempre essere Una carta dorata Che è un'azione eroica Mi sono dimenticato Di dirvelo Comunque tanto Il manuale Ve lo ricorda Subito E anche bene Comunque Passate queste due fasi La traccia mp3 Ci dirà Adesso si sta avvicinando Un nemico Ovviamente nella parte esterna Quindi i navi Che ci potrebbero attaccare Nella zona rossa Quindi vi ricordate Come diviso il tabellone A colore rosso Bianco E blu E ci dirà anche A che distanza Le carte Dei nemici Sono queste qui Le carte normali Per le prime tre missioni Che hanno una X Sul dorso Le carte invece Degli attacchi esterni Quelle più potenti Quelle più difficili Da combattere Ma che fino alla quarta missione Non le vedete nemmeno Sono queste qua Che hanno Tre punti esclamativi Dietro Quindi Queste qui Per le prime tre avventure Non le utilizzate Stessa cosa Per gli abbordaggi Carte verdi Per gli abbordaggi Normali E carte verdi Per gli abbordaggi Invece Più difficili Quindi sono comunque Carte Più impegnative All'inizio il computer Ci potrebbe dire Nella traiettoria bianca Che è quella centrale Rivelato un nemico A distanza A tempo Più tre Quindi Voi prendete Uno di questi cursori Qui gialli Vedete Ce ne sono diversi Nel gioco Dentro le buste Con l'indicatore Tre Vedete Per come ci ha detto Il computer La traccia audio Questo è sempre Nel primo setup Ragazzi Nei primi dieci minuti Dove dovete Setappare tutto il gioco Per come vi dice La traccia audio Prima di iniziare a giocare Quindi vi ha detto Un nemico Appare A tempo Più tre Voi prendete Il pulsione più tre E girate una di queste carte Ora il mazzo Qui l'ho sposto Che se no Da fastidio Quindi nella traiettoria Bianca centrale Rivelate Una carta nemico Che è un fighter Vedete È un caccia E accanto al fighter Accanto O anche sopra Forse è più comodo Sopra Ci mettete Il tempo Che vi ha dato Il computer La traccia audio Magari Aspettate Arrivate a sette Otto minuti Intanto vi consultate Su quello che ci sarebbe Da fare Perché è possibile Parlare Nella fase Con lettore mp3 L'unica cosa è che Quando la traccia audio Parte Silenzio Ascoltatela Perché ripeterà le cose due volte E poi vi sarete persi il messaggio E non saprete cosa dovete fare Magari potrebbe dire Nella traccia Nella traiettoria rossa A tempo A tempo Più 2 Più 2 Voi prendete il cursorino Più 2 E ce lo mettete sopra A questo punto qui Il gioco è pronto per iniziare A meno che Nella parte Nelle prime tre missioni Non capita mai Però il gioco Una carta come questa qui Di schermagliatori Che vi hanno abbordato A questo punto Il gioco è pronto Il cd vi dice Iniziate a giocare La traccia audio finisce Quindi ricordatevi sempre I 10 minuti E a questo punto Inizia il vero e proprio gioco Qui vedete l'indicatore dei turni Che è scandito Da questo Pirulino qui blu Vedete qui È la zona dove la nave Esce Fa il primo salto E qua giù È la zona finale Dove finirà la partita E farà il secondo salto Voi ogni volta Che fate un'azione Quando inizia il turno Il turno inizia ovviamente Quando tutti e quattro I giocatori Hanno fatto le proprie mosse Quindi quando tutti e quattro I miei miei dell'equipaggio Hanno fatto le proprie azioni Voi muovete il cursor Avanti di uno Appena inizia la partita Lo muovete direttamente Di uno Quaggiù E vedete ci sono dei simboli Questo giallo Questo blu Questo rosa E questo rosso Muovendo il cursore qui Il gioco ci dice che A tempo più uno Quindi questo qui È sempre la comparsa Di un nemico A tempo più uno Compare un nemico Che nel nostro caso Non c'è Perché vi ricordate ragazzi Ve li metto qua davanti Noi abbiamo un nemico A tempo tre Quindi tempo più tre E a tempo più due Quindi Ci è andata di lusso Nella prima missione E al tempo numero uno Abbiamo un attimino in più Per organizzarci Perché nessuno dei nemici Rivelati Che ovviamente Ragazzi poi entreranno in gioco E faranno danni Però inizialmente Non sono ancora presenti E soprattutto Non sono rivelati Sulle varie gittate Delle armi Quindi Possiamo direttamente Andare avanti E passare allo step successivo Cosa ci dice qui? Ci dà un valore di uno Quindi ci dice che Bisogna utilizzare L'azione uno Prendete l'indicatore Delle azioni Di ciascun personaggio Quindi in questo caso Il capitano si muove Per primo Che è il rosso Decidete voi Che è il capitano Potrebbe anche essere il giallo Si muove per primo E poi tutti quegli altri Si muovono in senso orario E cosa ci dice qui Per scandire l'azione Che bisogna pescare La carta numero uno Quindi la carta numero uno E questa qua giù Che mi ricordo Essere un movimento Come vi ho detto Nel setup iniziale La giro E faccio vedere Che il capitano Nella sua prima azione Userà l'ascensore Quindi il rosso Lo sposto Quindi la prima azione Del rosso Che è il capitano E usare l'ascensore Per scendere Nel ponte sotto E questa è la prima azione Le altre azioni Dei vari personaggi Potrebbero essere Che ne so Questo si sposta Per andare in questa zona Verso i cannoni Questo si sposta Per andare in questa zona Azzurra magari Per utilizzare I bot I robot Che vi ricordo Che i robot Sono l'unica maniera Che avete per difendervi Perché voi siete Un equipaggio di esplorazione Siete tutti scienziati Alla fin fine Non avete armi Per combattere a bordo Quindi nel caso Qualcuno vi abbordi La nave L'unico modo Che avete per distruggerlo E usare i robot I robot da combattimento Questo verde Potrebbe dire Faccio Provo a fare Un'azione di manutenzione Sulla nave L'azione di manutenzione Ce l'ho messa comunque A cubetti grigi Ma non c'è ragazzi Nelle prime tre partite principali È un'azione che dice Dovete comunque Ogni turno Che all'inizio sono due Ma nelle partite Dalla quarta in poi Dalla quarta missione in poi Sono tre Vi ricordate Arrivano non al settimo turno Ma al dodicesimo Per ogni turno Quindi primo, secondo e terzo Dovete fare un'azione Di manutenzione Nella console Quaggiù di comando Nella plancia di comando Nel ponte Perché se la farete Non succederà niente Se non la farete Praticamente darete un malus Andrete a rallentare Tutto quanto l'equipaggio Che ora vi farò vedere Come funziona Quindi mettiamo caso Che queste qui Sono le azioni principali Il capitano Ha preso il turbo lift Il giallo Si è spostato qui Il verde è rimasto qui E fa un'azione qui Da qualche parte E il blu Invece si è spostato In questa zona di qua Facciamo conto Che quindi Tutte e quattro Abbiamo scelto Di fare come prima azione Un'azione di movimento Vi ricordo che Quando un ascensore È occupato Perché in questo caso Lui è sceso di sotto Ok? Lui si fa conto Che è in questa zona qui Però quando lo spostate Da una zona all'altra Ricordatevi sempre Di lasciarlo sulla casella Dell'ascensore Perché il regolamento Dice che Se un altro giocatore Dovesse usare lo stesso ascensore E l'ascensore porta Una persona sola Quindi occupato Lui scenderebbe comunque Quindi se fa Un'azione di scendere O di salire Comunque la usa E scende E va qui sotto Non è che rimane sopra Però l'ascensore Essendo occupato Questo personaggio Si fa conto Che utilizzerà Le scale di servizio Per scendere Quindi tutte quante Le sue azioni Verranno rallentate E spostate di uno Che ora Finita questa parte qui Vi faccio vedere Come funzionano E questa è un'altra Delle azioni Che si possono fare Quindi in questo caso Il primo turno È passato Si va avanti Perché tutti hanno giocato La prima carta Si va avanti E quando c'è Questo segnalino qui È un'azione Di sparare con i cannoni Ma nostra della nave Quindi quando c'è questo segnalino qui Rosa con due cubetti sotto Vuol dire che Avremo un'azione Di fare fuoco Le nostre armi Al momento Non hanno energia Nessuno dei nostri cannoni E quindi non possiamo attaccare Ma tanto Non servirebbe a niente Perché Vi ricordate Al tempo 2 Al tempo 3 Non è stato rivelato Ancora nessun nemico Che attualmente È al tempo 1 Quindi non c'è bisogno Di attaccare nessuno Si va avanti Quaggiù E ci dice che Questo pulsone rosso Dice che adesso I nemici si muovono E attaccano Ma non essendo ancora Stati rivelati Non sono ancora sul tracciato Quindi Nessuno attacca nessuno E si va Alla fase successiva Che dice Tempo più 2 Vi ricordate che Avevamo un nemico Ve lo faccio vedere qui accanto Un nemico Un fighter stealth A tempo 2 Quindi a questo punto Il nemico verrà rivelato Vi ricordate I tracciati Dei range Delle armi Erano divisi in 3 Corta Media E lunga In questo caso qui Quello rosso Dove c'è sto fighter C'ha soltanto la corta E la media Quindi lui cosa ci dice Al tempo 2 Quindi nel secondo tracciato In cima al secondo tracciato Quindi alla seconda distanza Compare un fighter Nemico Quindi noi prendiamo Un altro cursore 2 Tanto sono sempre doppi Dentro la scatola di gioco E lo andiamo a posizionare Qua su Lo vedete C'è sempre il simbolino Per dove vanno messi Quindi lo andiamo a posizionare Qua su Adesso Il nemico è apparso Non fa movimento Però comunque c'è Si è rivelato E noi sappiamo che Nella traiettoria rossa Sia del ponte superiore Che inferiore C'è un nemico A distanza media Quindi ora dovremo fare Le nostre azioni Andando avanti L'avete visto Nel conteggio c'è sempre Rivelazione del nemico Girare la carta Che nel primo turno Nella 1 Nel secondo Nella 2 E così via L'attacco dei nostri cannoni E il movimento della nave Quindi muovo il cursore Sul costo del turno E questa volta Bisogna girare la carta Rivelare la carta numero 2 Che rivelando la carta numero 2 Sempre prima del capitano Il rosso E successivamente Tutti gli altri Per come l'ho messa prima Il rosso questa volta Gli ho dato un'azione Sulla plancia di comando Col valore B Con l'azione B Che vedete È direttamente Il reattore centrale Della nave Io posso mandare Un cubetto Al cannone Da me scelto Però Che debba essere Per forza di cose Collegato con il reattore E vedete che Il reattore questo È collegato I colori Alla fine Bianco bianco Blu blu E rosso rosso Quindi questo reattore Dà energia a questo cannone Questo reattore Dà energia a questo cannone E questo Dà energia a questo Quindi io usando l'azione B Prendo un cubettino E lo sposto direttamente Sul cannone Qua su in cima Quindi vuol dire Che questo cannone È pronto per fare fuoco Ovvio Sparando Non colpirebbe nessuno Perché nella sua traiettoria Non c'è ancora Nessun nemico rivelato Però nel caso Se questa azione L'avessi fatta Dalla parte di qua Avrei preso Un cubettino Da questa parte L'avrei spostato Al cannone Del giocatore giallo Che era pronto A fare fuoco Direttamente Sul nemico Che sta arrivando Il caccia stealth In quella traiettoria Le azioni che si possono fare Sotto Quindi nel ponte Inferiore della nave Sono Intanto qui vedete C'è una scorta Di batterie Che possono essere scaricate Per dare energia massima Al reattore Vedete che il reattore Ha energia massima 5 E al momento Ci sono 3 token verdi Io potrei sprecare Una di queste E toglierla Per mettere Tanti token verdi Fino ad arrivare Al massimo Che c'è scritto Qui nel numerino Quindi riempio Un'altra volta Il generatore Che torna al massimo Del suo potenziale Poi con l'azione C posso Focalizzare L'attenzione Su un punto Per una raccolta Dati Questo non serve a niente Serve soltanto A prendere più punti A fine avventura Andando su A Posso sparare Con i cannoni A impulsi Qua giù dietro In questa zona Col C Posso lanciare i missili Col 3 Scusate Col B Posso dare energia Al cannone superiore Col valore A Posso usare I cannoni laterali E da questa parte Invece Con l'azione B posso dare energia A cannoni superiori Con la A Posso usare I cannoni Vi ricordo che I cannoni Ai ponti sotto Hanno questo cursorino giallo A differenza di quello verde E praticamente hanno Carica infinita Ogni volta che le volete utilizzare Spara un colpo E poi torna qui Spara un colpo E poi torna qui Quindi virtualmente Con questi cannoni sotto Sono più deboli Ma potete sparare all'infinito Quindi Sparare con i cannoni Dare energia O con l'azione C Potrei attivare I bot da combattimento Nel caso Fossimo stati Abbordati Mentre Con l'azione B Principale È duplice Perché io Con l'azione B Principale Posso O usare i cubetti Da spostare Quassù in cima Come vi ho fatto vedere Precedentemente Oppure usare Un'azione Sempre con B Per sprecare Una di queste capsule E ridare Massima energia Qua sotto Ovviamente L'energia Può essere spostata Sia alle armi Ai cannoni Che agli scudi Con la differenza Che quando si usa Si sposta l'energia Al cannone Si sposta un cubetto soltanto Se invece Io L'azione qui sotto B L'avesse utilizzata Per spostare Energia Agli scudi Sopra E deflettere i corpi Si spostano Tanti cubetti Fino a che Non si arriva Al livello massimo Elencato qua sopra Quindi il livello massimo Dello scudo Qui sopra è 3 Se avessi spostato L'energia qui Sarebbe stato 2 Quindi avrei spostato Un cubetto soltanto Sposti tutta quanta L'energia dal reattore Alli scudi Fino a massima capienza O se no Si può fare Un'altra azione Che è Dalla zona blu Del ponte inferiore E dalla zona rossa In cui io richiedo Energia al reattore principale Che mi dovrà dare energia Per spostarla Nei sottosistemi Quindi facciamo conto Che qua giù Ci sono inizialmente Questi quadratini Veri di energia Qua giù ce n'è solo uno Ma il massimale Vedete è 3 Uno meno Qua giù in fondo Potrebbe dire Uso l'azione B Per spostare E riempire completamente Questo reattore Quindi capienza massima Sposto due cubetti 3 E lui di là Magari fa lo stesso Sposto due cubetti Capienza massima 3 Perché vi ricordo Questa zona Dà energia Alla parte centrale Questa dà energia Alla zona blu Questa dà energia Alla zona rossa Completano poi La plancia di gioco Le armi Che hanno Un target Una distanza E un danno Ad esempio Se vedete il missile Dice che tira a distanza 2 Vi basta contare Il quadrettino Fate 1 E 2 Quindi tira a distanza 2 E a forza 3 Praticamente colpisce Qualsiasi nemico A distanza 1 2 E fa 3 danni Il cannone impulsi Colpisce su qualsiasi traiettoria Vedete ci sono tutte e tre Segnate Quindi quella centrale Destra e sinistra A distanza 2 Ma fa un danno soltanto I cannoni laterali piccolini Light Fanno 1 2 E 3 di distanza Con 2 danni E anche quello laterale Dall'altra parte Uguale Mentre invece I cannoni in cima Sparano tutti quanti A 3 di distanza Però sono più forti Uno fa 4 di danno Uno ne fa 5 E uno di qua Ne fa 4 Ricordatevi sempre Che se il cannone Non ha almeno Un cubetto Energia Non può sparare Quindi se volete sparare Con i cannoni Ci deve essere Sempre qualcuno Che va nel ponte inferiore E nella zona Dello stesso colore Bianca, blu o rossa Prende un cubettino Energia E con l'azione B La sposta direttamente O agli scudi Per deflettere i corpi O al cannone Per sparare Al momento che si fa Un'azione per sparare Noi Ho preso la traiettoria rossa Per dove stava arrivando Il mostro E prima c'è sempre Un'azione di fuoco Della nave E poi il movimento Del nemico Meno male Perché se no Ci ammazzerebbero subito Vedete che la carta Ha dei valori Che io vi descrivo Il nostro cannone Cosa dice Il nostro cannone Spara a distanza 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Quindi lo becca Perché lui È a tempo Più 2 Quindi nella seconda Traiettoria media E fa un danno Complessivo Di 4 Il danno Ci sono tiri di dado In questo gioco Il valore che è qui È il valore di danno Che fa l'arma Però ovviamente ragazzi Il valore può essere Alzato Se nel caso Insieme a questo cannone Abbiamo sparato anche un missile O magari insieme a questo cannone Ha sparato anche questo qui di sotto Che vi ricordo Stessa traiettoria Per i rossi Per i bianchi Per i blu Però siccome in questo caso Ha sparato solo un cannone Fa danno 4 Quindi facendo danno 4 Vedete che il nemico Qua su in cima Ha 4 punti ferita E uno di scudo Il primo colpo Viene sempre assorbito Dallo scudo E tutti gli altri Vanno sempre addosso al mostro Quindi nel caso Io gli abbia fatto 3 punti ferita Vado a prendere 3 cursori rossi Che li metto sulla scheda Perché vi ricordo Che i danni Che gli ho fatto Erano 4 Però uno viene annullato Dallo scudo Sfortuna vuole Che questo caccia stealth Come regola speciale Ha il primo danno Che gli viene inferto È annullato Quindi praticamente Il primo attacco Lo rivela semplicemente È un mostro Abbastanza noioso Lo rivela automaticamente Quindi i danni li leva Facciamo caso Che fosse stato Un turno più avanti Quei 4 punti ferita Uno veniva scartato Per lo scudo E 3 se li prendeva Quindi al prossimo colpo Veniva distrutto Quando un nemico Viene distrutto Prima di essere arrivato Sulla zeta Prendete la carta E la date Al giocatore Che fa il capitano E prendete il secondo Dei due valori Quaggiù in basso a destra Quindi 4 Avete preso 4 punti Nel caso invece Non l'abbiate distrutto Si è arrivato allo zeta Vi abbia fatto l'ultimo attacco E si è passato oltre Perché una volta Che i nemici arrivano a zeta Si fa conto Che vi hanno passati Vanno via E non vi attaccano più È andato via Non l'avete distrutto Però comunque Siete sopravvissuti all'attacco E prendete il primo valore Valore invece Che va al primo ufficiale Che avete disegnato A inizio partita Si va avanti col turno Quindi questo è stato il turno In cui abbiamo sparato Col cannone Si arriva alla fase Di movimento dei nemici Cosa ci dice il nemico È a tempo 2 Questa navicella Ha un movimento di 3 Vedete qua su in cima C'è sempre Un valore Quindi muovendosi di 3 Si muove questo cursore In giù di 3 1 2 E 3 E non ci attacca Perché vedete Ci attaccano soltanto Quando ci fermiamo O passiamo su una lettera Leggendo quello che Fanno qua giù sotto Facciamo caso che questo Fosse stato un turno Sicuramente più avanzato Poteva fare 1 2 3 Superando Fermandosi O superando Una lettera È la X La X mi dice Che ci fa un attacco Di forza 1 In questo caso Abbiamo avuto fortuna Perché abbiamo sparato Quindi questo cubetto Si leva E va scartato Però avevamo Uno scudo Vedete Un valore di 1 Sullo scudo del rosso Dove ci attacca Il nemico Quindi lo toglieremo E non ci verrà affatto Nessun danno Nel caso avessimo subito Uno più danni Andiamo a girare Questi token Qua su in cima Vedete ci sono Rossi Per le zone rosse È tutto diviso a colori Gioco bianco per le bianche Blu per le blu Quindi nel caso Avessimo subito Una ferita Non avevamo scudo Prendiamo un token Rosso Lo giriamo Vediamo il disegnino Che c'è sopra E lo andiamo a mettere Direttamente Sopra la zona Che ha colpito In questo caso Come vedete Ha colpito La gittata dei cannoni E ce l'ha ridotto In malfunzionamento Il cannone nostro Non fa più 3 digitata A forza 4 Ma fa 3 digitata A forza 1 Quindi ci ha danneggiato Gravemente Un cannone Però potrebbe anche essere Girando Che ci ha ridotto Lo scudo Questa volta Quindi il nostro scudo Non sarà più Massimo di 2 cubetti Ma sarà di 1 Nel caso ci avesse fatto 3 danni Avremmo girato Quest'altro cubetto Che invece Ci rompeva L'ascensore Precludendoci La possibilità Di spostarci Sul ponte Di sotto Comunque Bisognava andare Su un'altra stanza Quindi questi Sono i danni Che ci fanno Le navi Quando ci sparano Vi ricordo Che una volta Che la nave Ha finito la traiettoria Vola oltre E va via Se invece La distruggiamo Prima che arrivi in fondo Prenderemo I punti esperienza Quelli di destra Il valore più alto Di 2 Questo è il regolamento Principale Poi durante gli abbordaggi C'è la possibilità Di risvegliare i bot Mandare in combattimento I bot vi seguiranno Mandarli in combattimento Per uccidere nemici Però il gioco ragazzi Bene o male è questo Regola vuole Che ciascuna zona Può subire Un massimo Di 6 ferite Vedete Con questi Cursori qua giù Con questi token colorati Ciascuna zona Può subire 6 ferite Se una zona Subisce Più di 6 ferite È automaticamente Distrutta Quella zona della nave E la nave Esploderà E quindi avrete perso La partita Ricordatevi che Quando ci sono 6 cursori Su una zona E quindi vi hanno precluso Tutte quante le azioni Ve l'hanno bloccata Tutta quanta Non ci sono più azioni Da fare in quella zona lì E quando la zona Che per zona ragazzi Si conta sopra e sotto Ponte superiore O ponte inferiore Quindi quando un colore Il colore di una zona Perché questo ad esempio Andrebbe sotto Vedete per l'energia Quando una zona Arriva a fine Dei 6 punti ferita Il settimo punto ferita Che andrà a subire Non essendoci più token Esploderà E quindi la partita Sarà persa E ragazzi Questo bene o male Il regolamento del gioco È tutto Uno scegliere Le carte iniziali Scegliere bene Il setup E poi ovviamente C'è anche una regola Che ci dice Una cosa importante Però comunque Una regola avanzata Vi ricordate che vi ho detto Che alcune azioni Possono essere rallentate Questo cosa vuol dire Rallentando Un'azione Dovete spostarla Se io nel primo turno Facciamo conto che alla reversione Nel primo turno Ho fatto la mia azione Nel secondo turno Ho usato l'ascensore Però l'ascensore era bloccata Mi tocca usare Le scale di servizio E per usare le scale di servizio Il mio personaggio Prenderà l'azione successiva Che potrebbe essere La terza La quarta La quinta Comunque la successiva Rispetto all'ultima che ho usato E la dovrà spostare Di uno Ok Facciamo conto che Qui non c'è niente Quindi la sposto di uno Quindi nel turno successivo Nel terzo turno Non farò niente Perché Sono rallentato E nel quarto turno Farò l'azione Che invece avrei dovuto fare Nel terzo Però nel caso Se qui accanto Ci fossero state Ce ne metto così casualmente Altre carte Messe così Coperte Ci fossero state Altre carte Io spostando Questa di uno L'avrei spostate Di uno Tutte quante Quindi questa andava fuori E quest'azione qui La settima andava persa La sesta diventava la settima La quinta diventava la sesta La quarta diventava la quinta E la terza diventava la quarta Quindi l'avrei spostate Tutte di uno Questa l'avevo buttata fuori Quindi non ce l'avevo più Era scartata proprio dal gioco E Praticamente Questa mi rimaneva Vuota E questa è la stessa azione Si può usare anche se Perché in questo gioco Il casino dove sarebbe Nel setup iniziale Quello durante I brani MP3 Io decido L'azione da fare Però è come giocare Nel passato Cioè io so assai Se poi più tardi Potesse succedere qualcosa Un problema Che ci potrebbe andare Non lo so Abbordare qualcuno O in danno in una zona Che non avevo calcolato Quindi io cosa posso andare a dire Se alla fin fine Qui ho scelto di fare un movimento Ma invece di fare un movimento Mi serviva di attivare i bot Cosa faccio Sono rovinato Cioè ormai Purtroppo Mi tocca muovermi come un robottino Fare l'azione che avevo scelto E non poter correre i pari No Il gioco vi dice Che potete tranquillamente Correre i pari Dire Ragazzi Quest'azione ora come ora Di muoversi per l'ascensore Non serve a niente Siccome siamo stati abbordati E si rischia di morire Che l'astronave esploda Io devo per forza di cose Girarle e attivare i bot Lui può fare tranquillamente Puoi cambiare una carta Non come sono messe Non è che questa può andare qui Questa può andare qua No Però potete girarla su e giù Dire Non mi serve più muovermi Devo muovere i bot Con la stessa regola però Che dovete rallentare ulteriormente Di un'altra volta Le vostre carte Quindi questa va fuori Questa si sposta qui Questa qui Questa qui E quindi si Avete fatto un'azione Che vi serve particolarmente In quel momento Ma per i prossimi due turni Non farete niente E questo ragazzi È ben o male Il regolamento del gioco Ci sono altre regolette Però vi assicuro Che sono tutte quante cose Opzionali Che potete leggere dal manuale Ma il gioco è questo Ragazzi Questo in conclusione È Space Alert È un gioco veloce Poi uno dice È un gioco veloce Però io per spiegarlo Magari ci metto 20-30 minuti di video Ma perché Io sono così Sono proprio logoroico Magari una cosa Che per spiegarla Ci vogliono due parole Ce ne metto 28 Sono fatto così Lo ammetto Però comunque Non vi scoraggiate Fra tutti i giochi Che ho provato finora Quindi come regolamenti È uno dei più semplici Anche perché qui Si basa tutto C'era un gioco di treni Che non mi ricordo Come si chiama Dove bene o male Il sistema Colt Express Dove bene o male Il sistema era lo stesso Che si sceglieva le carte E le carte erano l'azione Che poi dopo Andavano a fare in gioco Sbagliare il gioco Di una carta Quindi non consultarsi All'inizio Forse anche troppo cooperativo Non consultarsi all'inizio Giocando una carta Per un'altra Potrebbe fare del casino Perché come ho fatto Vedere le regole Sì Uno all'inizio dice Vabbè Io metto tre movimenti Le prime tre azioni Due movimenti E un'azione Però magari Quei due movimenti Iniziali Era meglio se ne facevo uno Poi dopo Perché me ne rendo conto Ed era meglio Fare un'azione Nella zona dove mi trovavo Lo potete fare Però allungate il tempo E spostate le carte di uno Quindi comunque il regolamento È semplicissimo Fatta una partita Veramente avete capito Tutto del gioco Ma la cosa bella È che dura poco Che potrebbe essere Un po' un pro e un contro Ora Deep Madness Per prendere un esempio Che è il gioco più lungo Che ho visto finora Una partita dura anche 3-4 ore Alla fine veramente Ti ci addormenti Però d'altro canto Questo forse dura un po' troppo poco Perché 20-25 minuti Mezz'ora Perché non lo so Perché uno dei giocatori È andato al bagno Sette volte in continente È durata Un po' troppo poco Secondo me Però secondo me Dai alla via giusta Per fare più partiti E magari fai una partita Ne fai un'altra Perché il gioco Poi ora vi faccio vedere Comprende anche una modalità Campagna Fai un'altra partita E poi magari A fine serata Dici Oppure Una prossima serata In cui ci ritroviamo Si rifà l'avventura Che abbiamo fatto L'altra volta Che poi è la stessa Non cambia niente Anche gli incontri Gli attacchi Saranno sempre gli stessi Però magari Cercando di giocarla Un pochino meglio Potrei immarzare Il nostro punteggio finale Quindi comunque È un bel gioco cooperativo Ed è un gioco cooperativo La cosa interessante È che questo gioco È in tempo reale È questa forse La cosa difficile Perché nella prima parte Nel setup Quando il computer vi parla Il computer di board Dell'intelligenza artificiale Voi dovete giocare Le vostre carte E poi nella zona Nella parte dopo Invece che non c'è più Il tempo diventa Un normalissimo gioco a turni Quindi diciamo In tempo reale Nella prima parte E a turni nella seconda Quindi il gioco È veramente molto semplice Mi garba Anche l'ambientazione È molto carina Che ricorda un po' Uno Star Trek O se vogliamo Anche un Farscape Ricorda un pochino L'ambientazione anni 80 Anni 90 Spaziali La plancia di comando La mappa Scusate della nave È piccolina contenuta Ma fatta bene È molto colorata Anche poi il layout I disegni sulle carte Sono molto evocativi Perché vi ho fatto vedere Una nave stealth Che ci attacca E uno skirmish Un equipaggio Che ci aborda Ma ci sono anche Mostri spaziali Orrori Che potrebbero salire a bordo Cioè questo gioco Ricorda un po' tutto Star Trek Alien Ha un po' di tutto all'interno Anche perché no Mass Effect È veramente molto carina E divertente Quindi Io tanto ringrazio Ancora una volta La CGE Per avercene fornito Una copia per la recensione Grazie ragazzi Veramente di cuore Perché mi è piaciuto Da morire È un gioco Che voleva Avevo già addocchiato Da un po' di tempo Ed è quel classico gioco Dove c'è da spiegare poco Ma il divertimento Che porta al tavolo Da gioco è veramente Molto 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 ampio E soprattutto C'ha una bellissima rigiocabilità Perché è vero Che la traccia audio Una volta scortata È quella Però ve l'ho detto Anche soltanto Per un fatto di punteggio Siamo richiamati A giocare alla stessa missione E poi non è finita Vi faccio vedere qualcosa Quindi se le devo dare Un voto finale A questo gioco Le do un 8 su 10 Che è meritatissimo Ma c'è dell'altro Gli sviluppatori del gioco Mi hanno mandato Anche La prima espansione Che vedete qui davanti The New Frontier Che tra l'altro Quando ho messo la foto Nel gruppo Facebook Di giochi da tavolo In Italia Tanti ragazzi E di questo mi dispiace Tanti ragazzi L'hanno visto E hanno fatto No ma davvero Ma io sto gioco Ce l'ho da 5-6 anni Ma per davvero Uscita in espansione Non lo sapevo nemmeno Ma la compro subito Non l'hanno pubblicizzata A dovere Secondo me è passata Un po' in sordina Quindi ancora una volta La CG e ringrazio Per avermi mandato L'espansione Espansione del gioco Che ci farò Un video dedicato Perché poi vedete dietro Comprende nuove carte Comprende nuove missioni Comprende un nuovo CD Ovviamente all'interno E comprende tantissime altre cose Che unite Non si può giocare da solo Dovete giocarlo col gioco base Non è stand alone Ma vanno a ampliare il gioco Ancora di più E finalmente Inserisce una modalità Campagna Dove ci saranno Missioni collegate Una dopo l'altra E' una cosa Che al gioco base mancava Quindi questo Ve lo faccio vedere In un prossimo video Aspettatevi una seconda parte Quindi un 8 su 10 Meritatissimo Ragazzi Un gioco semplice Divertente Immediato Molto cooperativo Ed è bellino Perché inizia come gioco In tempo reale E finisce come gioco a turni Quindi consigliatissimo Ragazzi Vi ricordo Che sia insieme in pressione Che sotto in descrizione Trovate tutti i nostri link Trovate il link Per la pagina Instagram Che è la cosa più importante Che abbiamo Quindi iscrivetevi assolutamente Trovate il link Della casella postale Nel caso vogliate mandarci Un gioco Un gioco di carte Di miniature Un wargame Qualcosa Che ricenseremo E vi ringrazieremo La nostra pagina Typee Nel caso vogliate Farci una donazione Per supportare Questo nostro progetto E ultimo Ma non meno importante Anzi forse La parte più importante In questo caso Perché è veramente Un gioiellino Il link dove acquistarlo Direttamente dalla CGE E il link dove acquistare Sia il gioco base Che l'espansione Che tante persone Non conoscevano Ma secondo me È veramente Amplio il gioco Ancora di più Ragazzi Io spero che il video Vi sia piaciuto Fatemelo sapere Con un commento E ci vediamo Alla prossima Aspettatevi anche La seconda parte Ciao belle Alla prossima